quindi mi metto qua almeno siamo in due a che parlo è che parti male sotto perché ti scivola cazzo o parti a 100 all'ora non drive perciù puro è aspetta che se qui non dobbiamo anche la schiarra sembra giusto bravo noi siamo presto eeeh godda puliscila, falla girare eeeh oh datti da fuori io cari incazzati ma chi comanda? facciamo un trial che cazzo pensi che faccio io? buttala su qua che dopo te la tiriamo su eeeh 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 eeeh